Questa grande piazza per manifestare la nostra raga, la nostra indignazione, sono una RSU eletta di Napoli, di un liceo scientifico e sono veramente incazzato per questo disegno di legge che è orgoglioso, che uniria la scuola, uniria la funzione docente, uniria la persona nata, è una vergogna! Ci sono dei parlamentari che sono venuti alla manifestazione, non li ringraziamo perché hanno comunque mostrato sensibilità e attenzione verso questa piazza, sensibilità e attenzione per noi signor Renzi! Sapete che chi vuole dialogare Renzi? Vuole dialogare con le copp, non con voi perché siete la parte pulita della nostra nazione! Noi non siamo le copp, non abbiamo da offrire soldi a nessuno, abbiamo da offrire conoscenza, dignità, professionalità e questa professionalità la diamo tutti i giorni! Quindi questo disegno di legge non può essere vendato, deve essere eliminato! Basta! non vogliamo dei piccoli aggiustamenti, non vogliamo i contentivi, vogliamo che questo disegno di legge sia ritirato e siamo al confronto serio e costruttivo con i sindacati, siamo rappresentativi dei lavoratori, siete rappresentativi dei vostri colleghi, siete stati eletti con un ampio consenso nelle scuole, fate il portavoce di questa indignazione, fate il portavoce soprattutto della volontà, il tuo emaggio, di scioperare uniti e comporti! l'ho anticipato, voglio fare ancora prima, concludo, concludo, non abbiamo risorse, Dani il nostro contratto è bloccato, il signor Renzi parla di Europa, parla di Germania, il job act, dobbiamo copiare tedeschi, ma in Germania, gli insegnanti, il personale alta, non hai gli stipendi da fare che abbiamo noi, smettiamola, nel copiare l'Europa solo sulle cose!